Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Direttanti ha ufficializzato le graduatorie dei ripescaggi per il completamento dell'organico del campionato di Serie D 2015-2016. L'Olimpia agnonese è al secondo posto nella graduatoria delle società di Serie D, perdenti, play-out e retrocesse in seguito di distacco superiore. Nella classifica generale invece Granata sono al quarto posto poiché in caso di vacanza di organico saranno ammesse in ordine alternato una società della graduatoria delle perdenti gli spareggi tra le seconde di eccellenza primo e secondo turno e una società della graduatoria di Serie D, perdenti, play-out e retrocesse a seguito di distacco superiore a 8 punti nella passata stagione. Quindi in ordine Liventina, Gorghenese, Atletico, San Paolo, Padova, Monticelli, Quarta, Olimpia, Agnonese. Le società interessate potranno far pervenire eventuali osservazioni relative esclusivamente all'attribuzione dei punteggi entro e non oltre il 3 agosto alle ore 20. Mercoledì 5 si riunirà il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Direttanti. Nell'occasione verranno ufficializzate le squadre ripescate in Serie D. Le voci di corridoio che davano l'Olimpia Agnonese in ottima posizione in caso di ripescaggio a questo punto sono state confermate. Il nuovo direttore sportivo di Granata, Nicola Dottavio, si è subito messo all'opera per allestire l'organico 2015-2016 dell'Olimpia Agnonese. Staffa tecnica e squadra, come detto, sono già stati allertati. Adesso bisogna mettere tutto nero su bianco. Il ritiro dovrebbe partire la prossima settimana tra il 5 e il 6 agosto. Se il team alto molisano disputerà la Serie D, dobbiamo usare ancora il condizionale fino al 5 agosto. La stagione inizierà ufficialmente il 23 con il primo turno di Coppa Italia, quindi il tempo stringe. Bisogna partire con la preparazione e farsi trovare pronti per inizio settembre in caso di Serie D con lo start del campionato.